Allora, visto che c'è qua, abbiamo detto René Villaminaglia, Rifugio Villaminaglia, che sta preparando questo piatto ed è stato anche l'artefice della preparazione sia di questo cocktail sia della tartina che viene abbinata. Allora, la mamma giustamente mi dice, dovrà, dovrà, dovrà avere stasera qua lo chef di Villaminaglia, un gerto Gianluca Barbagallo, che noi, che tutti dicono, mazurco, mazurco, ma è Gianluca Barbagallo. Lo chef oggi, che tra le altre cose festeggia pure il compleanno, ha avuto un piccolo problema diplomatico, chiamiamolo così, ha un problema diplomatico, e quindi non è presente. Noi lo salutiamo, ma ha mandato, vale d'aiuto, ha mandato la mamma e ha mandato anche Tamara, che io, in termini tecnico, credo che si chiami il capo partita di Villaminaglia. Può essere? Allora, un bel applauso per Tamara. Poi vi dico anche perché dovevo fare un bel applauso per Tamara. Allora, chi le chiede anche tutto questo cocktail com'è? Intanto, buonasera a tutti. Abbiamo fatto la base del prosecco, come si fa, come si dovrebbe fare una per il spritz. Quindi, prosecco e andiamo ad aggiungere l'amaranca. E insieme a questo qui, vi faremo degustare un tarallo, fatto con i pomodori secchi, e fatto come si fa il pane normale, con un lievito, farina e sale. Abbiamo aggiunto questi pomodori secchi. Insieme poi abbiamo aggiunto della maionese, la porchetta, che è stata cotta a bassa temperatura, con una marinatura fruttata. Ora andremo ad assaggiare anche il secondo piatto, che sarà un raviolo, in una forma di sacchettino, e aggiungiamo dei piccoli dadini di mozzarella. Bravissima, bravissima! Quando si dice che con il tempo si migliora, Tamara è la prima volta che è stata qua 5 anni fa, non ha parlato. Ora, facciamoci a fare un microfono. Siamo pronti per la degustazione di Tamara? Allora, mi hanno detto che abbiamo due ospiti che volevano dare un saluto, non ha nevole di nuca e non ha nevole di papeto? Non so se ho sbagliato, prima, accomodatemi. Tutti e due, tutti e due, o mai che cosa, tutti e due? Allora, prima, avete già degustato?